eh non lo so sono ancora indeciso consigli voi? c'è un bel carro qui qui lo lanciano sotto? lanciano su quel bel carro armato lì ah si si forse però io l'ho lanciata proprio in testa te lo sto sfruttando eccolo 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 vai vai che rilassiglia vai quanti ne hai fatti?